La Filt CGL si costituirà ad adiuvandom per sostenere la GESA che le amministrazioni interessate nella causa, che si discuterà domani al Consiglio di Stato a Roma sull'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. L'organo giurisdizionale dovrà pronunciarsi sull'annullamento della valutazione di impatto ambientale disposta dal TAR di Salerno dopo la denuncia di 13 proprietari di terreni che si sono posti all'ampliamento dello scalo salernitano per questioni di impatto ambientale. In una conferenza stampa tenutasi stamani nel salotto Elia della bulangeria della stazione di Salerno, la Filt ha illustrato tutte le iniziative sindacali sullo scalo aeroportuale, tra cui anche il prolungamento della rete ferroviaria fino al costo d'Amalfi e il miglioramento della viabilità. Noi abbiamo deciso come Filt CGL Campania di fare un intervento ad adiuvandom per cui saremo parte integrante del giudizio e parteciperemo domani al Consiglio di Stato per sostenere le ragioni di GESAC e quindi per sostenere lo sviluppo di una infrastruttura importantissima che per mole di investimenti attivati credo che sia l'investimento più importante degli ultimi 30 anni sul territorio e sulla provincia di Salerno. È un'occasione storica che noi non possiamo perdere, parliamo di investimenti di circa 400 milioni di euro, tra investimenti pubblici e privati. Per cui noi continueremo a supportare le ragioni di questo progetto, attraverso il quale si creerà sicuramente nuova occupazione e si creerà anche un effetto moltiplicatore perché attivando gli investimenti su questa infrastruttura in un periodo tra l'altro molto complicato come la crisi dovuta dal coronavirus, noi avremo sicuramente un effetto cosiddetto anticiclico. Per cui domani ci auguriamo che il Consiglio di Stato, anche grazie a questo nostro intervento, possa annullare la sentenza del TAR di Salerno.